Castel San Giovanni non dimentica le vittime del Covid. Nel giardino di lato al cimitero comunale, denominato Bosco della Memoria, sono state ricordate tutte le persone che hanno perso la vita durante i giorni bui in cui scoppiò la pandemia. I giorni che scandirono la primavera di quattro anni fa, quando, ha detto la sindaca Lucia Fontana, ci trovammo ad affrontare una situazione del tutto inedita. Tra i presenti familiari di vittime del Covid, rappresentanti delle forze dell'ordine, anch'essi alle prese con una situazione del tutto sconosciuta, e poi operatori delle strutture protette come l'Albesani dove fu necessario l'intervento dei sanitari militari, visto che il personale era allo stremo. Tutto questo è stato ricordato durante il momento commemorativo nel Bosco della Memoria, dove ogni anno, dal 2021, viene piantato un nuovo albero. Quest'anno è stato piantato un nocciolo, un albero simbolo della volontà di far mettere radici a una memoria che altrimenti rischia di sbiadirsi troppo velocemente. Per questo il momento di raccoglimento a Castel San Giovanni non ha voluto essere soltanto un momento commemorativo, ma anche soprattutto un'occasione per riflettere su come guardare a quel periodo buio per costruire un futuro migliore.